Niente da fare neanche questa volta. Nonostante un imponente, quanto a volte penoso, battagio anche nel 2024, il sogno di raggiungere il primato nel traffico croceristico nel Mediterraneo è rimasto tale per Civitavecchia. Stando infatti ai dati diffusi dalla fonte più autorevole in materia, risposte turismo, nel 2023 il porto catalano ha ancora una volta sopravanzato quello di Roma. Peraltro in un anno giudicato record per Civitavecchia, Barcellona ha ulteriormente allungato in termini di passeggeri. Se infatti nel 2022 il primato si era giocato al photo finish con Barcellona, che aveva prevalso per poche decine di migliaia di unità, nell'anno appena trascorso il divario è stato molto più ampio. Barcellona ha infatti chiuso con oltre 3 milioni e mezzo di turisti movimentati dalle navi da crociera, contro i poco più di 3 milioni e 100 mila di Civitavecchia. Il divario è complessivamente di oltre 250 mila passeggeri. Peraltro, rispetto al 2022, lo scalo marittimo catalano ha avuto un incremento del 53,2%, mentre nello scalo locale l'aumento è stato del 52,7%. Il 2023 è stato l'anno della rinascita, del ritorno ai livelli dell'era pre-pandemia, livelli che in molti casi sono anche stati nettamente superati. Peraltro, a livello nazionale, Civitavecchia non è stato il porto che ha avuto il maggiore incremento in termini di presenza di crocieristi. Genova, Palermo e Savona, ad esempio, sono andati nettamente meglio, rispettivamente con più 57,1%, più 69,5% e più 75,7%. Per non parlare poi di Venezia, che rispetto al 2022 ha fatto registrare un autentico boom di presenze di crocieristi, con una crescita del 110%. Insomma, Civitavecchia dovrà ancora attendere per avere il tanto agognato primato nel Mediterraneo per il settore crocieristico e farà bene a guardarsi dalla concorrenza italiana, dove ci sono realtà che stanno crescendo a dismisura.